buonasera a tutti buonasera a tutti voglio fare questo video molto breve per uno darvi l'augurio di buone feste e soprattutto di un buon anno ma il motivo centrale e l'ho fatto anche nella telefonata che sta uscendo con gatto per fare un appello gerry paolo paolo gerry fuori la grana fuori la grana fuori la grana fatelo un cazzo di mercato fatelo un po di mercato per favore gerry fate un po di mercato fate quel cazzo di mercato per favore fate mercato anche perché ne abbiamo bisogno di fare mercato noi ogni volta che viene in mercato tifoso milanista vede cani e porci che comprano io mi incazzo perché mo vi sono accorti mo tutti quanti mo si sono accorti di isco mo se ne sono accorti io sto gridando sto letteralmente non dico bestemmiando ma quasi perché isco io andavo a prendere come il pane isco al milan servirebbe come il pane diaz e certo di crederare se viene isco si assettano ve lo dico io se tu metti isco a giocare trequartista metti bail a destra puoi vincere tutto perché io sentirmi dire paolo con tutto l'affetto con tutto il cuore puntiamo a vincere tutto ma come sia se sale makers questo ti fanno se vuoi provare a vincere tutto ma non per carità è per carità di dio onesti giocatori ma per vincere tutto eh ci vuole bail ci vuole isco ci vuole vlavic ci vuole arnautovic ci vuole la grana devi cacciare la grana gerry gerry fuori la grana sai cos'è la grana la fresca i soldi i moni perché non si può pretendere di andare al casino ci vado al casino voglio sbancare il casino con quali soldi non puoi andare senza soldi in tasca perché i soldi adesso ce li abbiamo io non dico che bisogna comprare 11 campioni alland mbappé io quelli non li voglio non li voglio non li voglio ho sposato il progetto giovani va bene però un cazzo di sfizio un cazzo di sfizio ce lo potete dare io non dico devi comprare 11 fenomeni 11 figurine come come quello no quello vabbè quello abbiamo capito che non lo faremo mai più ha fatto berlusconi non lo faremo mai più non lo faremo mai più però una cazzo di gioia per i tifosi che non devono ogni volta sentire nomi impronunciabili dice beh la roma è scesa in piazza per di bala magari non vinceranno un cazzo però sono scesi in piazza per di bala noi non potevamo scendere in piazza per cdk con tutto il cuore perché ti scorreggiavano scorreggiavano io non dico però se tu compri izzco il milanista dice quello c'ha quello l'inderista c'ha c'ha mi chitaria io c'ho izzco capito a me cioè anche per un po di orgoglio cioè i milanistici guarda noi abbiamo izzco non dico che cioè va bene le scommesse va bene tutto abbiamo accettato il progetto giovani però ricordatevi che il campionato l'hai vinto con i braimovic kier e olivier girou che tanto giovani non sono senza quei tre campioni tu giocavi di sabato tu giocavi di sabato e mi avete capito bene io non dico che non bisogna comprare i giovani perché per carità il progetto giovani piace anche a me però ogni tanto ogni tanto un piccolo sfizio c'ha izzco sul mercato c'ha izzco sul mercato che sicuramente i tifosi milanisti sarebbero contenti di andare ad accogliere all'aeroporto uno che ha fatto ballare la samba a verratti forse lo si è dimenticato uno che ha giocato nel real madrid uno che ha vinto le champions comunque ci sa stare in un gruppo vincente comunque un giocatore che determina stessa cosa gareth bale è un giocatore che i tifosi milanisti andrebbero ad accogliere in 3.000 all'aeroporto comunque è un campione è uno che capito a me non dico però fuori la fresca voglio fare anche due nomi visto che ad allegri caio york e su lei fanno schifo tu vagli a comprare visto che lui vuole comprare mccallister e non può far giocare più fagioli portagli la fresca e frega gli fagioli se magari ingley junior non lo fa giocare più perché è scemo vaglielo a fregare se vlaovic non lo fa giocare più vaglielo a fregare portagli la fresca che tanto quello è scemo tu i soldi ce li puoi devi cacciare o abram dalla roma visto che una scoprova a rigenerare abram visto che ibrahimo dice girù purtroppo comincia ad avere una certa età oppure fai giocare l'asetice cerca un po più di la salernità non sta facendo più un mercato di noi la salernità non sta facendo più un mercato di noi e si fa male il portiere va a prendere ocioa e manco un trequartista caccia i soldi va a prendere isco non le ghiacchiere mo sentivo frattesi frattesi ci vogliono 50 grane 40 50 tu vuoi andare a fare la corsa a frattesi o devi cacciare la grana gerry devi cacciare la grana non c'è non ci sta trippa non c'è trippa devi cacciare la grana gerry fuori la grana fuori la fresca visto che tu c'hai un'emergenza continua un lazzaretto io ho fatto l'unico 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 come si dice l'unico fioretto l'unica richiesta che il mira non abbia più l'emergenza infortuni ma da qua entra da qua esce che qualcuno deve andare a casa qualcuno dei preparatori atletici o i cambi devono essere rifatti che parla uno che le preparazioni le ha fatte sulle proprie gambe e qualcuno deve andare a casa perché ribadisco e chiudo se vuoi vincere tutto hashtag fuori la grana ciao a tutti